Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi sulla A2 del Mediterraneo che ha provocato il ferimento di due persone alla guida dei rispettivi mezzi, di cui uno in maniera grave. L'incidente ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti, un auto articolato ed un autocarro. L'episodio si è verificato nella Galleria Sant'Angelo della Carreggiata Sud tra Contursi e Sicignano degli Alburni al chilometro 53.400 nel territorio di Postiglione. Non sono note le cause del sinistro che ha portato al grave ferimento dell'uomo alla guida dell'auto articolato. Drammatiche le immagini apparse ai soccorritori all'arrivo sul posto. Ad avere la peggio l'auto articolato con il trattore stradale che a seguito del violento impatto si è ribaltato frontalmente restando però attaccato al semirimorchio. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consina, guidati dal caposquadro Eugenio Siena, e del distaccamento di Eboli, per riuscire a liberare l'autista dalla cabina rimasta schiacciata sull'asfalto. Immediato anche l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti. Le condizioni dell'autista e dell'auto articolato sono apparse subito gravi. È quindi stato disposto l'immediato trasferimento presso l'ospedale Luigi Curto di Polla, dove sono state riscontrate diverse ferite e traumi. Dopo le operazioni di stabilizzazione delle sue condizioni, l'uomo è stato trasferito presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Pare comunque che non sia in pericolo di vita. L'incidente, verificatosi intorno alle ore 8 di questa mattina, ha provocato numerosi disagi al traffico con il personale ANAS, che è stato chiamato ad intervenire per la gestione del traffico autostradale e velocizzare le operazioni di ripristino della viabilità. Sul posto anche la polizia stradale di Eboli, che oltre alla gestione del traffico e le verifiche di sicurezza per gli automobilisti, hanno effettuato i rilievi sull'incidente per appurare le cause dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.